Abbiamo in Italia sempre la consolazione di registrare episodi che ci commuovono. È l'ultimo di una lunga serie, per la verità, lo ha prodotto il senatore Salvini. Il senatore Salvini a un certo punto ci ha comunicato che gli esponenti della Lega non partecipavano alla riunione del Consiglio dei Ministri. Apro una parentesi, lo dico sottovoce perché non voglio danneggiarmi, ma Giorgetti, Garavaglia, la ministra Erika, Stefani. Diciamo figure stimabili, non aggiungo altro per non danneggiare, a cui va tutta la mia solidarietà ovviamente. Bene, Salvini si inventa quest'altra battaglia. Noi non partecipiamo al Consiglio dei Ministri, la revisione delle rendite catastali, quella storia. Bene, quello era il primo atto. Il secondo atto, quello conclusivo della performance di Salvini è stato l'incontro con Draghi. Dopo due o tre giorni si incontra con Draghi, esce dall'incontro, non è successo niente. Però Salvini è tutto contento. Salvini ormai si sta accreditando e specializzando come il più grande sfondatore di porte aperte nel nostro paese. Non produce nulla, ma rivendica con forza tutto il nulla che produce. L'Italia si sta riaprendo per i fatti suoi. Si riaprono i locali, i cinema, gli stadi e discoteche perché si è fatta una campagna di vaccinazione seria. Salvini non c'entra niente. Tutto quello che sta accadendo in Italia accade per le scelte rigorose fatte. Quindi stiamo riaprendo, non grazie, ma nonostante, Salvini e aggiungerei l'onorevole Meloni. Conclusa quest'ultima performance di Salvini, noi veramente dobbiamo augurarci che in Italia si sia conclusa o si vada concludendo la stagione della cialtroneria politica, della demagogia, dei tweet, dell'uno vale uno, dell'infantilismo, dell'aggressività politica unita all'incompetenza. Grazie per la visione!